Calano sensibilmente i ricoveri negli ospedali abruzzesi anche se si registra una leggera crescita del numero dei positivi in Abruzzo dove la situazione è però ormai sotto controllo, come spiega ai nostri microfoni l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri. Stiamo negli ultimi giorni assistendo ad un andamento discontinuo dei contagi nella nostra regione con dati che mutano a seconda delle diverse giornate. C'è però un dato incontrovertibile. Nei primi nove giorni di marzo i nuovi contagi sono stati poco meno di 9.900 mentre nello stesso periodo di febbraio, se facciamo un paragone, erano più di 21.000. Evidentemente c'è questo deciso abbassamento della curva in maniera rilevante e anche visibile il drastico calo della pressione ospedaliera che presenta dati da zona bianca sia per quanto riguarda l'area medica e soprattutto per quanto riguarda le terapie intensive. Resta però al momento il numero molto basso di abruzzesi che hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione con il Novavax. Lo posso definire un vero e proprio flop. Avevamo a disposizione, come lei ha ben detto, 21.000 dose. Di queste 21.000 dose sono state somministrate circa 300. Vuol dire che c'è ancora una grande resistenza da parte di coloro che non vogliono vaccinarsi. La regione infine ha lavoro per garantire il tracciamento dei profughi che stanno arrivando in questi giorni dalla martoriata ucraina. Insieme alla prefettura abbiamo avuto un incontro insieme alla protezione civile dove abbiamo stabilito i luoghi dove potersi fare il tampone e quindi anche vaccinarsi e soprattutto cercare di avere quel tracciamento che è fondamentale per capire dove sono loro domiciliati e quindi avere una consapevolezza di quello che è il numero per ogni abitante, diciamo per ogni comune, il numero degli ucraini che sono in ogni comune. Grazie Grazie